Stimolare gli enti locali a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, aiutandoli a conoscere gli strumenti e le opportunità di Cassa, Depositi e Prestiti. In un convegno è stato presentato ai vari sindaci della provincia di Taranto il lavoro da parte di CDP Cassa, Depositi e Prestiti, con il presidente della provincia, Rinaldo Melucci. In verità devo dire che da qualche anno anche il Comune Capoluogo, nonostante la sua maggiore agibilità, la sua struttura tecnica, fa ricorso sempre più di frequente a strumenti alternativi per finanziare le proprie opere strategiche, i propri interventi sul territorio. E c'è una relazione molto forte, molto ben collodata con CDP, che lo ricordo a vario titolo, è anche titolare di diverse aree nella nostra città, per esempio al quartiere Paolo Sesto, dove come sapete siamo intervenuti in termini di forestazione, proprio grazie al supporto di alcune misure di CDP. Oltre a una panoramica sui principali strumenti finanziari che Cassa, Depositi e Prestiti offre agli amministratori locali, il seminario è servito per dare indicazioni sul prestito green, che punta a promuovere e sostenere investimenti in progetti sostenibili, non solo da parte degli stessi enti locali, ma anche da enti pubblici non territoriali. Credo che sia una validissima alternativa per tutti quei comuni, quelle amministrazioni che hanno qualche difficoltà tecnica o qualche ristrettezza economica per portare a compimento grandi opere per la comunità. In un momento in cui, come sapete, tutti i comuni hanno presentato i loro progetti per il PNRR a valere su altre misure europee, ma la tanta burocrazia e i freni che ancora la programmazione di governo pongono su queste vicende, in qualche maniera preoccupano gli amministratori locali.